e ciao a tutti ragazzi buoni in questo nuovissimo video oggi siamo qui vi faccio vedere che ho preso due vova dei lunetunes all'eurospin vediamo se riesco a trovare qualche personaggio 3d che mi manca e magari di andare avanti con la collezione e di portare a casa qualche personaggio 3d visto che ho la nonna e bugs bunny magari vorrei trovare quelli come gatto silvestro e tt per finire anche la collezione comunque qui ci sono i fratelli eccoli qua andiamo ad aprire anche l'altro ragazzi andiamo ad aprirlo e vediamo un po sperando di non trovare doppioni ragazzi ecco qua l'altra busta di cioccolatini e andiamo a vedere col primo e abbiamo trovato un doppione abbiamo trovato questa posa di silvestro ragazzi se non mi sbaglio ce l'ho già comunque ecco qua ve la torno a far vedere e adesso andiamo a vedere l'altra e anche questo è un doppione ragazzi c'è questo foglietto illustrativo e niente anche questa volta è andata male quelli che mi mancano ragazzi sono praticamente il personaggio 3d di lola banni gatto silvestro tt e il coyote eccoli qua il resto li ho tutti e niente ragazzi niente vi piace commentare iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao a tutti e belli ciao